L'elica volante va di bestia, va Ma c'ho per caso? Fermi Devo vedere se c'avevo anche magari delle... No, non c'ho delle acrobazie anche sui laterali No, sono solo queste tre, insomma Ok, cosa c'è? Cosa c'è qui? Gente che vuole... Che vuole finire in prigione? A parte i demoni Beh, è facile Cecchini ovunque Prima devo occuparmi di loro Ciao Ehi Ci sono troppi sgherri qui Ma potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata Oh, guarda lì Ok Ok Ok, allora Divide l'impera Tagliamo qua Che cazzo No No, ha fallito Merda 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 Ok, sono mortissimo ragazzi Sono mortissimo Ok, ci sono Che cazzo mi ha colpito? Minchia Quello lì Ok Ok Ah, ce n'è un altro di là pure Merda Dov'è? Dov'è, dannazione? Eccolo Non posso prenderlo Ciao Ciao Sono morto Morto Ok, ho fatto una stronzata Facciamo Facciamo che non è successo niente ragazzi Riprendiamola Sta missione Cecchini ovunque Dicevo Devo occuparmi di loro No, no, non qua Ok, va bene anche qua Ciao Pippo Ok, ciao Preso E prendo anche te Ciao Ok, allora Fermi Devi vedere una cosa Oh, ma ho un nuovo costume Mattemi vedere Oh la madonna Ho preso un botto di costumi Cos'è questo? Ho preso un botto di costumi Cos'è questo? Uh, Spider-Man War Oh, uno Scarlet Spider Che fico Costume Stark Costume Guerra Segreta Secret War Uh, scarica impulsi elettromagnetici amplificati che neutralizzano armi e ricaricamenti dei nemici Escaolografica 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 Realtà aumentata Escaolografica che sorriscono i nemici e si smaterializzano No, che fico Dammelo subito Sì, 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 sì Subito lo Scarlet Spider Quando crea un nuovo costume Il relativo potere viene equipaggiato automaticamente Bellissimo Bellissimo Potere del costume Sì, sì, subito Uh, ma Allora, la seconda modifica cosa metto? Mettiamo questa Che incremento temporaneamente i danni con le schivate perfette Poi questa Lenti reattive riducono gli effetti delle granate accecanti e stordenti Ok, incrementano la velocità d'accumulo della concentrazione Ok, facciamo No, non posso? Oh, non posso sbloccarlo quello Colpi di grazia generano munizioni per i gadget Riducono i danni da proiettile Sì Questa Questa Riduci i danni da proiettile, assolutamente Assolutamente Gadget Cos'è che ho di nuovo? Esplosione con... La madonna Esplosione contundente? Carica un impulso sonico che scaglie in aria i nemici Fichissimo Sì, ma non posso sbloccare niente A parte lo spider drone Ok Spider drone potevo sbloccarlo Qui facciamo niente Mhm Com'era lo web swing? Non mi ricordo Era salto e tieni premuto? Vabbè, lasciamo perdere Ok Sono scarlet spider, vai Adesso chi devo prendere? Ok, quello per ultimo Questo... Oh, cazzo Però quello mi vede Perché ti nascondi? So che sei qui Ciao Come faccio a eliminarlo Quello? Perché mi sembra che non abbia una... Un'entrata dietro quel posto Facciamo così E posso prenderlo da sotto? Sì Sì, 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 sì Però vediamo di qua No, vedi Non hanno un'entrata dietro Quindi devo prenderlo per forza da sotto Ok Ciao ciccio Woo Sono qua Ok raga, allora Prendiamo intanto La ragnatela a impatto E poi vediamo Chi posso... Chi posso uccidere adesso? Hm Questo, questo Questo posso uccidere, mi sa Ciao C'era... C'era qualcun altro però Sì, lì No, ok Via Andiamo qui su Um Ciao Ciao Nooo Mi hanno visto Che palle Ok, andiamo Punk Spider-Man For the win Andiamo Hop Ciao E' finito Iiii Wow Web swing Web swing Web swing Ok Vuoi giocartela così? Va bene Dove siete? Qua? Ciao 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 ciccio Presi Sì, siete arrivati proprio in tempo voi E' in tempo come sempre Dovresti sapere che i giustizieri non possono perquisire le proprietà private Sì, lo so Per questo ho un mandato Ti va di compiere un'ispezione perfettamente legale? Proposta interessante Come ti chiami? Agente Davis Chiamami Jeff Tu sei? Ehm Ti prende in giro Mio figlio ti adora Allora Con quel mandato Posso spondare una porta? No se non vuoi una montagna di scartoffie da compilare Ok Troverò un'altra entrata Oh, ok Va bene Va bene Un posto così fatiscente dovrebbe avere muri distrutti o finestre in frantumi Controlla sul retro Andrei io ma Beh, non sono Spider-Man Giusto Vado sul retro Dove? No, scusate Ho sbagliato Dove sul retro però? Sul retro dove? Qua? Aha Non so dove andare però raga Raga ma sul retro dove? Esattamente Davanti non c'è modo di entrare Ma forse altrove non hanno sigillato tutto con la stessa cura Ah Oh Aspetta L'ho visto È quello Ma vedevo perché era Coperto Ok Eccoci Sembra di essere in un film dell'orrore Ehi là C'è un pescatore pazzo con la mano a uncino per caso Spero di no perché mi fanno veramente impressione quelli Non c'è niente qua vero? Ok Allora scendo Jeff Jeff Ci sei È l'ora del portaporti Per via della porta Capito? Raffinatissima Vedi la centralina che alimenta la serratura? No Uno storditore Fantastico Cercavo proprio dei condensatori per mettere a punto un nuovo potenziamento Ok Allora Perfetto Dammelo Il taser Usando la pistola serenera vuoi creare la ragnatella elettrica Uh Tieni premuto per creare la ragnatella elettrica Subito Ragnatella elettrica creata Ah Wow Ok Si ragnatella elettrica Hai l'animo da inventore Mi ricordi mio figlio Hai iniziato a smontare le tv a 5 anni Ora sblocca i telefoni dei suoi amici Potrebbe insegnarmi qualche trucchetto Se non morirai Perché sembra che tu sia per morire sai Quando inizi a parlare di tuo figlio e della tua famiglia Di che bella vita che hai In più sei nero Potresti morire Sei a rischissimo ciccio Questo deposito è qui da anni Serviva da base per i contrabbandieri Chiaro Quelli adorano le stanze segrete Da un'occhiata Ti sembra vuoto? Non lo so Un'altra centralina Un'altra centralina Qua? Questa? Funziona? No Forse non era quella giusta Continua a cercare Cosa intendi? No Ok Quella No non volevo salire di qua Però Va bene uguale Ciao coso Questa? Una cassaforte Qui non c'è un bel niente Se esiste una stanza segreta Ce ne saranno sicuramente altre Noti niente a terra Ahà Possono nascondere le porte Ma non i segni che lasciano Dobbiamo trovarne altri E davvero non c'è da entrare niente in quella cassaforte Ok Perché altri segni Devo trovare dei segni Quindi meglio portare di nuovo in giro Non vedo niente però Wow Oh ehi Ehi Mi fai salire? No Non mi fa salire Ok Dove potrei trovare delle tracce? Magari lì sopra? Dicevo qua sopra? Guardalo qua Hola Va bene 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 Dove sei? Ah pensavo che sollevasse lui E come ci pensi? Lo salti? Wow Wow Che style Potresti essere il mio nuovo Spider Boy Posso chiamarvi Spider Boy? Anche se sei più grande di me Perché è un bel È un bel nome Questo è il punto Trovata Fatto Sistemata Grandissimo Hop Eccomi Quindi Apriamo? Bravo apri Guarda qui Niente Sembra quasi che Fisk Voglia prendersi gioco di me Guarda le pareti C'erano delle armi E non possono averle smaltite Dall'ingresso principale Qui però c'è una centralina Guarda il muro Forse controlla l'accesso A un'altra zona Gli uomini di Fisk Parlavano di un cavo Forse siamo vicini Credo di sì Sembra un circuito doppio Vedi se riesci a trovare Un'altra centralina Ok Uno e Oh Dov'è? Dov'è? Vai in giù di qua Ah eccola Questa Centralina Dove mi nasconderei? Segui i cavi Dovrebbero indicare La giusta direzione Ma l'ho fatto? Trovata Ma l'ho fatto? L'ho folgorata? Stai scherzando? Ma che dia Ma che diavine Oh Oh Capisco Capisco Non posso folgorarla Perché Perché Madonna Dove sono? Non capisco un cazzo Ok Ok Devo tirar sull'ascensore Perfetto Fatto Bene Bravo Jeff Sicuro Andiamo Uno Due Tre Per niente inquietante Un vecchio tunnel Dei contrabbandieri E nessuno passa lo straccio Dai tempi di Al Capone Al Capone Era Chicago però Non New York O era New York? C'è un enorme blocco di cemento Non mi ricordo Non riesco a passare Diamo un'occhiata da sopra Sì ma Mi Non mi fa Ok Qui ho spazio di manovra Aspetta Sono bloccato Vuoi fare niente? Fatto Cos'è stato? La metro Forza La struttura Non è stata Ok Di sicuro Non era un treno Sembravano esplosivi E questi sembrano demoni Il cavo Presto Oh cazzo Eccoli Viamo Via 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 No I demoni ci hanno battuto sul tempo Ah che palle Deve esserci un ingresso sul retro Vedi se riesci a trovarlo Ok Questo È un'armeria Questo Guarda Hanno fatto saltare le serrature Eccoli Possiamo prenderli Stai fermo lì Oh merda Resta qui Al diavolo Hai bisogno di me per fermarli No Che muori Oh cazzo Oh cazzo Vi immaginavo più pipponi Web swing Cazzo che male Ciao Sono quasi colpito Sono quasi Ciao Preso Ehi grazie amico Oh yes Dobbiamo seguirli però Oh cazzo Arrivano i riforsi Tempismo impeccabile Visto Anquia o qualche amico Fumo in arrivo Saro io Alontanati A terra Come andiamo Stiamo vincendo Lo sordisco Ajà Bravo Dove sei? Qua Preso Finiti? No Non ucciderlo Ok lo prendo Se perdo due furgoni Di uomini armati In un giorno Meglio appendere La ragnatela Al chiodo E la madonna Come si muove Quanto veloce Si muove Sto cosa Oh la madonna Malissimo Non fare cazzate Che muori Qualcuno può darmi Una mano Tagliarli a strada Tipo Wow Sta per prendere Questa volta Preso Ragazzi avete un posto in più Hop Da quanto tempo La tua fermata Ciao ciccio Preso E uno E due Hop E Tre Oddio Cazzarola Oh merda Merda Ok E Shit No Ok sei salvo Fantastico Per una volta La 3 In orario No la 3 Cazzo La sto prendendo Ok Uff Oh merda Oh merda Oh fuck Wow Ciccio Ciccio No no Non farti sparare Non ci provare a morire Ok Oh non è morto Non ci credo Grande 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 Uff Non è morto Ciao rossa Scusi signorina Lei può stare qui? Più di te Dopo la casa d'aste Il bugle mi ha assegnato alla cronaca Ora posso dedicarmi a storie più serie Come questa E ai demoni Sai che più ti avvicini a loro Più diventi un bersaglio Vero? Più mi avvicino Più sarà facile per noi fermarli Che figa Ti amo Fai quello che vuoi Guarda Fai Fai fare quello che vuoi Rossa No comment La capisco Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei E loro si nutrono di controversie La tua opinione? Non ne ho nessuna Se vuole l'ascolto Ok Salta su Grande MJ E' proprio brava Ok Stel sulla stessa barca Missione completa ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Non appena avrà finito di parlare Spider-Man Hai finito? Bene Oh no Non ho Oh mio dio Cosa sta succedendo? Eh Yo Yo Io Cosa è un cosplayer di Spider-Man È grandissimo Scherzavo vado avanti Scherzavo allora vado avanti No scherzavo cavalloni Ci vediamo al prossimo episodio Eeeh Si Direi che Ciao Vedremo cosa ci sarà Dietro questa porta La prossima volta Ciao 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 Ciao